Ed Eccala, il pervertito per eccellenza, Lugabilo con il suo inseparabile paperotto giallo, Eccala, speciale 2023 solo per lei, cuoricini, faccette che festeggiano, buste con cuoricino, pensate. Casi pensi già a famiglie, mo' Lugabilo? Guardate, lui è partito come tante storie d'amore, no? È partito in maniera seria, senza spigliare conferenze, due piccaicon, poi il picca è diventato picchi, no? Già, sono iniziati i vari diminutivi, no? Picchi! E poi qui ha azzardato qualche cuoricino e poi si è appigliato orito con tutta mano, faccine, cuoricine, l'orsacchiotte, il baccarello, fino ad arrivare a questo scempio. Lugabilo, lei è la perfetta sintesi di quella che è la relazione con qualunque donna. Si parte sempre in punta di piedi e poi si prendono tutto. Proprio l'anima ti prendono. Martin Terrier, che è il buon junkie, ci ha preparato. Bada boom, bada boom, vediamo come si presenta questo Terrier. Ok, bella scarpa. Bicolore della marca giusta, ma nient'altro. Calzettone generico, maglia generica, non dà ne uno colzino, non dà ne uno tatuaggio, non dà ne niente, chi si... Male. Eh, sì. Sì. Eh, minchia, ma qua io corre un botto, caspita. Questo è il classico Langti che corre... Kumorannata. Guardate come corre. Proprio fluido. Tanne che la corsa la kai il vuolka. Vedete, vedete che stoppa a seguire. Tipico dei Langti. Vai, ma devi correre. Ora devi darci una dimostrazione di corsa brutale. Mamma mia. Bello, bello, bello come pia velocità, chissà. Oh, chi l'era kai il vuolka, eh? Non era l'ultimo stronzo. Grosso extra pass da bimbo Nutella. Ma quanto corre questo? Eh, purtroppo deve fare solo quello, però, perché... Ha un modo di portare palla che se l'allunga. Corri. Dai, su, bello, erano i grandi buoni coppia PlayStation 5. Ah, ragazza, annaggia, maronza. Da questo mi aspetto una bella progressione. Ah, sporco giù. Comunque non è male, sto king, eh? Beh, gli edda, dice mister, ci penso io. Guarda bastoni, come si fa a rispettare? Ah, io, su Rebbi c'è proprio un bello giocatore fluido. Ancora bastoni! Ma che fatica fa, sto Ben Yedder, Dio caro. Come fai a saltare l'uomo con quel Ben Yedder? Madonna, che trigger a me. Bravo. Ma scusate, ma sto king prima teneva i scarpe blu. Ma è tenne bianco. Guarda che forte sto Rebbi. Ma guarda che fluidità sto Rebbi. Ma guarda sto bastoni. Che giocatore non è mica male. Dio pari! Beller! Un sapo manca per sto pallone! Non male comunque bastoni. Non male. Qua ha molto più senso Beller. Comunque questo king è una specie di Rudiger. Bastoni sta incredibilmente sul pezzo. Ma la cosa che mi sta meravigliando è che questo Rebbi è fluido anche su quattro dove pensavo fosse un tronco. Bastoni molto bene. Non ci avrei scommesso niente. Ma che forte sto bastoni. Quindi, recap di questi giocatori che abbiamo testato grazie ad ADB. Scuola Foot Universe. Scesni, come sapete, i portieri vanno testati tante tante partite. Ci vogliono decine di partite per capirci qualcosa. Devo dire, non si è comportato male. Abbastanza affidabile. Qua siamo sul livello medio-alto. Così, da quello che ho visto, gli do un 7,5. Questo è sorprendente. Veramente sorprendente. Sto bastoni non ci avrei scommesso niente. Tra l'altro sta praticamente a scarto. Ma che bel giocatore. Un metro e novanta? Ma poi, essendo lenghti e tutto cosa, dà una grande sensazione di velocità. Recupera molto bene chiunque. È estremamente preciso negli interventi. Ovviamente, non siamo al livello dei vari top five dc del gioco. Però, tanta roba questo. Cioè, stamme livelli dei vari piqué, quelli lì, top. Non proprio più far, però. Tanta aggressività. Full automatico. Quando si avvicina l'avversario lo spostate una meraviglia. Il body type che ha, veramente, top. Veramente un gran bel giocatore. Come sintesi, gli abbiamo applicato ancora. Perché così diventa anche lenghti. Magari su PS4 volendo potete mettergli anche ombre. E come voto, gli do un sette e mezzo su entrambe le console. Gran bel giocatore. Pellegrini, onesto. Lui, di solito, lo fanno bello inconsistente in mezzo al campo. Ma, devo dire che questo l'ho visto bello presente. Sarà per l'alto alto. Sarà, magari, per delle discrete stats difensie. Comunque, gran bel body type. Dà abbastanza fastidio in mezzo al campo. Intercetto, ovviamente, non siamo anche qui ai livelli dei top cdc. Cioè, per intenderci, questo è tipo un marchisio. Meno forte, più grosso fisicamente. Però è tipo un marchisio. Ecco, il concetto di player è tipo questo. Giocatore che dovete per lo più selezionare. Per poi andare a dar fastidio a destra e a sinistra per il campo. Anche se lui qualche automatismo lo fa. I passaggi sono assolutamente clamorosi. Palla al piede, corre il giusto, non è lengthy. Però, non male anche lui. Considerando che sta, praticamente, credo, a scarto. Anche lui gli do un 7 su entrambe le console. Ribadisco, considerando che sta a scarto. Se già questo facevano pagare 100k, vi dicevo, anche no. Però, a queste condizioni ci posso stare. Rebic su PS5, notevole. Lengthy con architetto. Lengthy più. Un bel body type. 1,85 m. 4,4 m. Una bella forza e il mix perfetto dell'attaccante, secondo me, su next gen. Finalizza benissimo, tira delle seggiate disumane. Attacca benissimo gli spazi perché, comunque, con tutta quell'aggressività, si vede in mezzo al campo. 4,4 m. È un buon controllo pallo, ovviamente, è un giocatore con cui non bisogna mettersi a fare le giocate nello stretto. Però, si gira abbastanza bene su PS5. Ma va utilizzato come un lengthy, quindi lanci, profondità e così. Su PS4, mi aspettavo un giocatore molto più pesante. In realtà, anche lì, mantiene quella sgusciantezza. Non prende velocità come su PS5, però si muove in maniera sgusciante nello stretto. Non trasmette pesantezza. Anche lì, grande finalizzazione. Poi mantiene tutte le stats di cui vi ho parlato poco fa. È un giocatore che, a questo prezzo, anche lui, ci sta assolutamente tutto. Ha utilizzato attaccante esterno, eviterei. Attaccante o singolo o in un attacco a due, su PS5. PS4 evitate. Come voto, a questo giocatore gli do un 7,5 su Next Gen e un 6 più su Old Gen. Buono, ma come stile intesa gli applichiamo un architetto su Next Gen e un motore su Old Gen. Big Header, grossa, grossa delusione. Non ha workato nessun Next Gen. Tanto meno su Old Gen. Ovviamente, leggermente meglio su Old Gen. Perché comunque, con l'L1 più lo sprint boost, prende velocità. Però, è un'accelerazione che non vi porta da nessuna parte. Perché, alle gambette, è leggerissimo. Lo sposta Q. Quindi, quel beneficio che voi avete dall'accelerazione, lo perdete con il fatto che non va via. Per via delle gambe veramente corte. Poi, non metto in dubbio che sia un finalizzatore top, eccetera. Ma, con questo, all'interno dell'area di rigore, su Next Gen o A. Io non vi girerete mai. Ve lo trapassano, ve lo spostano, spalla la porta, non vi girate mai. Eppure, quella volta che vi girate, la palla vi rimane sotto. Cioè, deve essere veramente l'altro scarso a difendere. Proprio fa girare su ben dietro. Ovviamente, non lo metterei COC, non lo metterei COS, COD. Perché non è veloce. Su PS4, come dicevo, un pelo meglio con gli sprint boost. Ma, è un giocatore che non vale mai, mai, mai nella vita mezzo milione. Un peccato, perché pensavo che almeno su PS4 potesse work out. Come voto gli do un 5,5 su Next Gen e un 6 su Old Gen. Ma, lasciate proprio perdere il soggetto. Ping. Lui sembra una sorta di Rudiger. Enorme in game. Molto fisico. Sposta chiunque. Dà una grande sensazione di velocità. Nei cambi di direzione, L2, R2. Sembra veramente Rudiger in game. E poi, eppure, bello automatico. Non proprio full automatico, ma quasi full automatico. Se vi piacciono i giocatori al Rudiger, alla Campbell, alla... Ma, mettiamoci anche Rio Ferdinand. Quella gente lì, questo potrebbe piacervi parecchio. Se invece preferite gente alla Koundé, alla Ramos, che si girano in un niente, sono stragili e tutto quanto, allora lasciate stare questo rientro nella categoria dei difensori ingombranti che spostano chiunque. Il prezzo è più che onesto, al momento non so se è cannato, ma è di 67,5. Non c'è sul mercato, bisogna sniperarlo. Nella modalità momenti potete prenderlo, ma in prestito, questo giocatore. Questo è sul mercato e sta con un cap di 67,5. A questo prezzo è giftata praticamente una carta del genere. Credo che sia sbagliato. Se è comportato benissimo su entrambe le console, come voto, gli do un 7,5 su entrambe le console. Si è intesa e consigliato ombra, ed è pure lengthy. Per rie. Allora, partiamo da Next Gen. Questa carta con cannoniere diventa lengthy. Ed è tanta roba, perché un lengthy con 93 di velocità, oltre al boost dato dallo stile di corsa, prende pure il boost della 92 di accelerazione, 94 di velocità scatto e quindi tanta roba. Quello che, secondo me, si nota e non si nota in questa carta è quell'86 di forza. Ma, credetemi, non vi dà mai. Perché non va via di fisicità come fanno tanti altri. Probabilmente è dovuto a quell'equilibrio. Infatti, quando ve lo affiancano, sapete, a quel modo di correre un po' alla Cristiano Ronaldo, no? Che sembra quasi ondeggiare. Quindi vi ritrovate su Next Gen, un giocatore estremamente veloce. Però dovete evitare di farvelo affiancare, perché ve lo spostano, nonostante quella forza. È una forza che, però, purtroppo, si fa sentire a tutta quando vi girate su voi stessi. Perché sommata 80 di agilità e sempre quel 77 di equilibrio, capite che nello stretto questo sta veramente a pezzi. Va utilizzato semplicemente cercandolo con degli 1 o 2, veloci, sulla fascia e lanciato, oppure con dei filtranti. Per me non può fare né l'attaccante, nonostante sembri finalizzare bene, né il C.O.C. ho provato il C.O.C. inguardabile. Quindi un ottimo esterno, lengthy e veloce su Next Gen. Ribadisco, cannoniere, per far riprendere il lengthy, come voto gli do un 7 su Next Gen. Però capite che è un 7, dato dal fatto che costa 40k, che è lengthy e che è veloce. Ma non fa altro. Su Old Gen è un giocatore normalissimo, se dobbiamo dirla tutta. Su Old Gen si fa sentire di più quella pesantezza, perché quando cercate i dribbling nello stretto poi fa un po' di fatica a partire. Se invece fate il solito alle 1 o più corsa parte abbastanza veloce, va via a campo aperto. Però, credetemi, non è proprio niente di che su Old Gen. Si fa una gran fatica a saltare l'uomo. Poi vale tutto quello che abbiamo detto per Next Gen. Quindi passaggi se la cava molto bene, la finalizzazione mi è sembrata ottima. La presenza in game, devo dire, è anche molto buona. Si propone, attacca la profondità. Quindi vi ritrovate per 40k, uno da mettere esterno e da cercare con dei lacci. Lasciate perdere ogni forma di altro posizionamento, attaccante, c o c, perché non è cosa sola. Come stile intesa gli abbiamo messo cannoniere, ma si potrebbe optare tranquillamente per un motore oppure per un cacciatore su Old Gen. Probabilmente io opterei per motore, però sappiamo bene che cambia veramente poco e niente. Comunque, come voto su Old Gen ti do un 6+. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo playa di cui volete vedere la vi è stato. Buono, alla prossima!